Odissea Alternativa è un laboratorio teatrale didattico sul mito dedicato ai ragazzi, promosso a Santa Gata di Puglia dal caro dei comici, con il sostegno del teatro pubblico pugliese e il laboratorio che grazie all'arte e reciclo di oggetti e materiali comuni partecipa a pieno titolo al processo educativo del rispetto dell'ambiente, si concluderà con uno spettacolo aperto alla città. Lo portiamo in scena con un vestimento tutto particolare, con delle macchine di scena che guardano, ammiccano e spiegano anche l'energia alternativa ai bambini. Abbiamo portato due esempi che partono dal ciclope, quindi polifemo, ecco Matteo Altomare lo ha inventato con Francesco Mede, agendo su questa piccola manopola si accende l'occhio, invece all'altra destra abbiamo la bella Calypso che in questa sede viene interpretata da Giovanna Bebiace che è la nostra organizzatrice e che sta animando adesso lei manualmente le pale dell'isola di Calypso, naturalmente abbiamo voluto dare una sintesi di questo gioco.